Non ce ne rendiamo conto, ma nel corso della nostra esistenza consumiamo l'equivalente di 600 volte il nostro peso corporeo di acqua. Ed è alla Sagra dell'Ortica di Malalbergo ad Altedo, in provincia di Bologna, che è stato posto al centro il tema del consumo di acqua per sfatare falsimiti e per non perdersi in un bicker d'acqua. Di acqua se ne parla tanto, però dice lei la si conosce poco. Sì, l'acqua è un elemento praticamente sconosciuto, tutti ne parlano, ma però l'acqua ha delle caratteristiche particolari che i più ignorano. Per esempio l'acqua è un elemento che possiamo trovare nelle tre forme in natura, sono la forma solida, quando è ghiaccio, sotto forma di vaporacqueo e quindi vapore e sotto forma liquida. Non ci sono elementi particolari come l'acqua. Una Sagra è un'occasione anche per scambiare conoscenza, non è soltanto un'occasione di esprimere folclore? Sì, è un grande strumento, tanto che alcuni anni fa ho coniato un termine per un gioco di parole, sfrutta la Sagra. Io non sono un appassionato di cibo né un esperto di sociologia, però trovo che questo fenomeno che è esploso letteralmente dagli anni 90 e negli anni 2000 possa essere un'opportunità per recuperare anche un modello, un paradigma, come si dice oggi, di società, perché quella che vorremmo lasciarci alle spalle, che ci ha creato danni e inquinamento, deve trovare una situazione, una prosecuzione. Le sagre, almeno le sagre utentiche, quelle dei microambienti, dei micropaesi, possono essere un laboratorio. Grazie.